ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi vi propongo un video un po particolare perché trattasi di calendari dell'avvento alcuni mi sono stati regalati uno l'ho comprato io e quindi volevo farvi il video siccome è arrivato oggi quello di il regalo dei miei figli automaticamente ve li metto vi faccio il video oggi stesso per prima cosa vi faccio vedere il calendario che ho acquistato io che mi sono auto regalata ed è questo del livre rocher io l'ho preso anche l'anno scorso mi sono trovata benissimo con questo calendario quindi ho voluto replicare comprandolo di nuovo l'ho preso scontato perché mi avevano fatto una cartella comunque non mi ricordo codice eccetera eccetera e quindi l'ho voluto prendere il calendario è così e poi vediamo se riesco aprendolo è in questa maniera qua molto molto bello mi piace come vi ho detto già ci sono rimasta contenta dell'anno scorso quindi ottimo le caselline sono fatte così a forma di scatola e niente io con i prodotti di vero scemi trovo bene specialmente per quanto riguarda skin care e altro quindi li proveremo poi in un video e questo me lo sono auto regalata perché poi mi sono fatta altri regali però poi gli altri che vi faccio vedere sono stati i regali della mia migliore amica perché ogni anno sapete che io compro i calendari dell'avvento e quest'anno già lei li aveva prenotati quest'estate quando è scesa l'altra migliore amica perché la mia migliore amica michela mi ha prenotato i calendari e la mia migliore amica patrizia me li ha spediti ha fatto tutto lei per l'imballaggio e tutto abbiamo chiesto consiglio a valentina a che mitica allora se volete fare degli acquisti vi metto il link di valentina cercatela su instagram tiktok youtube dove volete a che mitica lei è una ragazza semplicissima che veramente è brava gentile vi accontente in tutto e per tutto se volete fare un ordine contattate lei e vi farà ricevere il pacco fino a casa e soprattutto con spedizione velocissime e con pagamenti bassi perché il pacco che ho ricevuto io dalla mia migliore amica tramite lei l'ha incartato ha inserito e me l'ha fatto pagare pochissimo quindi merita merita veramente quindi vi lascio il link di valentina vi raccomando a che mitica quindi io ringrazio la migliore amica patrizia per avermi spedito il pacco ma ringrazio la mia migliore amica michela per avermi regalato e vi faccio vedere perché non solo ha fatto un regalo a me anche ha fatto un regalo alla piccolina per quanto riguarda le aperture dei calendari dell'avvento ovviamente tiktok instagram eccetera eccetera allora il primo calendario che vi faccio vedere è questo che ha dei prodotti che riguarda il beauty quindi il bagno creme per il corpo creme mani eccetera fa un profumo anche chiuso che si inebria è aperto ovviamente così con le caselline che si aprono in questa maniera già l'ho aperto quindi il 5 l'ho aperto quindi oggi siamo 6 credo comunque è un ottimo calendario l'anno scorso l'avevo ricevuto il regalo tramite laura la cucina del cuore che saluto e quindi quest'anno io ho fatto diciamo la mia lista per quanto riguarda il dm la mia migliore amica me l'ha regalato quindi questo è il primo non vi so dire i prezzi in caso poi lei ve li scriverà perché lei che monta i video quindi poi un altro che ho preso l'anno scorso e mi sono trovata bene quella della 3d tap mi è piaciuto tantissimo questo calendario mi è piaciuto veramente con i prodotti all'interno ottimi belli ovviamente tutti da provare e anche questo è fatto nella stessa maniera quindi si devono poi aprire le caselline strappando vediamo se vi faccio vedere la casellina numero 5 visto che aperta vedete ha il modo di in questa maniera con la plastica dentro il cartone fuori queste mi piacciono tantissimo i loro prodotti l'anno scorso ricevuto ho ricevuto ho aperto il calendario ho trovato un bel po di prodotti e credo che faremo una full face proprio con questa marca 3d tap che in germania va abbastanza forte allora io devo ringraziare quelli della essence perché prima di tutto fanno dei calendari dove trovi tantissime cose molto carine tra pennelli rossetti e tanti altri prodotti ma soprattutto perché essence quindi la marca li veste a festa nel senso che l'anno scorso c'era tipo questo rossetto e capite bene che è un rossetto che non trovate nelle altre edizioni ma che il vestito a festa nel senso con i brillantini il fiocchetto tutti i puntini quindi ti fa capire che è un prodotto tipo natalizio gli altri non lo fanno l'unico veramente l'unico che ho tra tutti questi per quanto riguarda il make up che li veste a festa è essence prendete spunto per favore per quanto riguarda essence perché è un un marchio che costa poco ma che fa delle cose veramente molto molto belle comunque il calendario è così ed è fatto tipo al libro in questa maniera ed è sempre come vi ho fatto vedere quello di poco fa sempre con le caselline che si aprono così infatti tipo asmr quando li apro su su tik tok poi andiamo avanti un calendario che anch'esso li fa per quanto riguarda il vestito a festa è quello di balea io l'ho acquistato anche l'anno scorso mi sono trovata benissimo con questo calendario perché fa dei prodotti ottimi sia per quanto riguarda il viso sono mi sbaglio capelli e anche corpo a me piace tantissimo aspettate che vi giro un po la telecamera così riesco anche a farvele vedere allora a me piace tantissimo anche questo si apre con la casellina in questa maniera ma mi piace perché ha vestito prodotti a festa vi faccio uno spoiler in questo vedete perché già siamo aprendi calendari quindi è anche carino comunque a me piacciono piacciono perché sono veramente ottimi prodotti soprattutto perché sono prodotti che li potete utilizzare anche mentre viaggiate visto che c'è l'occasione che mio figlio è andato fuori sede fuori la sicilia per lavoro automaticamente credo che alcuni prodotti li utilizzerò per per portarmi perché per la prima volta dovrò prendere l'aereo quindi ci è voluto il spostamento di mio figlio per andare 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 a prendere l'aereo lasciamo perdere l'escussione che se no stefania wow comunque ottimi prodotti balea ve lo consiglio sempre anche come prodotti durante tutto l'anno sia bagnoschiuma che prodotti di skin care ottimi questo c'è il prezzo ed è 14 euro e 95 quindi 15 euro e avete dei prodotti bellissimi anche se sono in mini size che ve ne frega almeno così li utilizzerete velocemente un altro calendario sempre vestito a festa perché io lo adoro l'avevo preso anche l'anno scorso è quello di al verde al verde ha dei prodotti di skin care anche questo si apre in questa maniera ha dei prodotti di skin care molto buoni mi sono trovata veramente bene l'anno scorso e quindi ho voluto provare i prezzi sono bassissimi di questi calendari qui non c'è ma è sulle 20 e qualcosa se non mi sbaglio comunque mi veramente trovate delle cose molto molto carine da provare veramente ottimo poi l'ultimo che quello di chloe sempre regalato da dalla mia migliore amica e questo ed è il calendario con diciamo da mangiare per quanto riguarda gli animali vi faccio vedere che chloe assaggia di tutto e di più sono piaciuti tutto quello che ha trovato fino adesso anche questo si apre nella stessa maniera ve lo faccio vedere in questa maniera si apre così no l'ho aperto ho sbagliato il 6 vabbè vabbè forse lo devo aprire oggi ho aperto 5 forse sì comunque quello che dovrò aprire oggi è il 6 quindi vi farò provare questi snack perché ha trovato dei salatini allora gli sono piaciuti tutto però quelli che gli sono piaciuti di più e sono stati forse quello del giorno 5 forse quelle di ieri ecco a chloe e quello di ieri perché erano tipo a forma di pollo gli sono piaciuti tantissimo infatti è rimasta molto contenta di questo calendario il prossimo anno glielo prenderò di sicuro poi l'ultimo calendario ma non per importanza è quello che mi hanno fatto i miei figli e quindi ho aspettato aiuto ho aspettato che arrivasse io l'ho preso con un super sconto era 120 e qualcosa poi l'hanno me l'hanno messo a 90 e passa poi l'hanno messa 80 ma io l'ho presa il giorno del black friday a 77 fortunata si fai e ho preso il calendario di zalando ed è questo adesso tolgo la il cartoncino di fuori riesco riesco sì il cartoncino di fuori e vi faccio vedere che pesa tantissimo e il calendario è fatto così invece a differenza scusate degli altri calendari sono fatti a forma di cassetto vediamo se riesco ad aprirne uno così ed è a forma di cassetto vedete ci sono il cassettino aprite le cose sono confezionate quindi le vedrete dopo e mi è piaciuto l'ho preso scontato e quindi sono rimasta molto molto contenta sono rimasta dispiaciuta del calendario di this style perché l'avevo prenotato l'avevo messo nel carrello e tutto ma tutte le volte che l'hanno messo e tolto messo e tolto messo e tolto cioè esaurito non sono riuscita a prenderlo o una volta non spedivano in italia una volta era la spedizione solo in america cioè hanno fatto queste cose che sinceramente non mi sono piaciute e quindi sono rimasta male che non ho preso quello però sono rimasta anche contenta di tutti gli altri calendari che ho ricevuto quindi per quanto riguarda questo video è tutto ovviamente ditemi cosa ne pensate di questi calendari se li avete presi anzi scrivetemi nei commenti quale calendario avete preso quest'anno e se nessuno ha preso calendari per diverse situazioni eccetera eccetera ditemi quale avreste preso così l'anno prossimo cercherò anche di acquistare qualche cosa anzi l'anno prossimo metterò i soldi di lato per il black friday perché per il black friday ho comprato pochissimo in base a quello che io volevo ma comunque ditemi cosa ne pensate giù nei commenti io vi lascio tutto per quanto riguarda valentina nell'info box io saluto e ringrazio le mie migliori amiche i miei figli per avermi regalato i calendari e per quanto riguarda questo video è tutto io vi saluto e vi mando un gustissimo bacio e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao